Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV sul canale 17 c'è l'informazione, la lettura dei giornali, il commento, la stampa del giorno nei prossimi 20-25 minuti, allora partiamo subito dal santo, poi il tempo e i titoli appunto, andiamo sul cartello, oggi è una celebrazione, la chiesa ricorda la beata vergine della medaglia miracolosa, ecco, il sole sorgerà alle 7.22 e tramonterà alle 16.35. Vediamo il sito Trebimeteo con il titolo d'apertura, nel fine settimana torna il maltempo, arriva un vortice ciclonico mediterraneo, nella prossima settimana arriva anche il freddo dai Balcani, andiamo invece nel sito della protezione civile delle Marche, per oggi cielo sereno poco nuvoloso, temperature stazionari, attenzione alle nebbie, sabato domani 28 novembre ancora cielo sereno poco nuvoloso, mentre domenica arriva l'annunciato peggioramento con precipitazioni sparse più probabili nel settore meridionale e nelle zone interne della regione, anche la neve sulle cime più alte dei Sibillini, poi tempo stabile nelle giornate di lunedì e martedì. Ancora una settimana, ieri c'è stata una telefonata tra il ministro Speranza e il governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, Acquaroli sperava di ottenere qualche restrizione in meno per quanto riguarda la nostra regione, in realtà saremo ancora zona rossa per la prossima settimana, tutta la prossima settimana. Allora, il titolo del resto del Carlino edizione di Pesaro, zona gialla, la corsa è tutta in salita, l'indice RT marchigiano scende sotto l'uno, quindi questa è una buona notizia, però resta il problema dei tamponi, non ne abbiamo, e dell'occupazione dei posti letto, ancora ne abbiamo anche lì, troppi ricoverati. E io gli parai un rigore invece, la fotonotizia, il racconto di un fanese, il fanese Marinelli, era il terzo portiere del Napoli all'epoca di Maradona, vedremo tra un istante il suo racconto. Intanto, sempre dalla prima del Carlino, laboratorio analisi in difficoltà, l'ex coordinatore dice torno gratis al lavoro, mentre il focolaio a medicina al Santa Croce di Fano blindato il reparto, la cronaca, non ha il biglietto, dà una spinta al controllore, adesso un 17enne finisce nei guai. Scovato dalla finanza invece, soldi e vincite, ma prendeva il reddito di cittadinanza. Un trenino per le festività di Natale, il programma pesarese, un modo diverso per scoprire la città, e il presepe quest'anno sarà di ghiaccio. Ginnastiche, pugilato a Campanara, completati i lavori all'interno del padiglione F, riqualificata un'area strategica. Andiamo su un Corriere Adriatico, Arancioni, almeno altri sette giorni. Acquaroli ha telefonato al Ministro Speranza, nonostante le rettiscende agli ospedali comunque restano pieni, ieri altri nuovi decessi nelle Marche, trovato l'accordo per i test sierologici rapidi nelle farmacie. Centro pagina, la fotonotizia Santa Croce bolla per i positivi, allestito il reparto Medicina 2, dove ci sono i positivi appunto. Il piano del Comune di Pesaro invece per salvare il Natale e anche il commercio. Pala F inaugurato, Campanara diventa la cittadella sportiva. E poi affano, spaccio di droga, mamma coraggio, segnala il figlio. Camera e Senato invece, maxi collegi elettorali, così cambierà il voto. Istruzioni per l'uso, per le elezioni politiche che verranno preparare la cartina geografica perché la riconfigurazione dei collegi contemplerà un incrocio di zone differenti tra Camera e Senato. Qui di taglio basso il muratore vinceva all'otto e prendeva anche il sussidio. scoperto un altro furbetto del reddito di cittadinanza. L'uomo lavorava a partita IVA ma ignorando il fisco. E lo sport, quelli che non giocano più, calcio dilettanti, mai così a terra. E restiamo in tema calcistico perché sulla pagina del Corriere del resto del Carino di Pesaro c'è il racconto di Mirko Marinelli, classe 1970, di Fano, cinque anni nella squadra partenopea nel ruolo di portiere, dividendosi tra le giovanili e la prima squadra. E di Maradona lui dice era un grande sia dentro che fuori lo stadio. Poi racconta alcuni aneddoti ad Amedeo Pisciolini e quando eravamo, dice, in ritiro con il Napoli lo vedevamo palleggiare anche con le arance. Tirava palloni da tutte le parti e io non riuscivo a prenderne uno. Un giorno in allenamento, dice ancora Marinelli, gli parai un rigore. L'avessi mai fatto? Diego se la legò sportivamente al dito, si procurò a tutti i costi un rigore, riportò la palla sul dischetto, tirò e stavolta fece gol. Poi venne da me e mi diede la mano, non me la scorderò mai. E quindi qui c'è tutta la storia, poi anche le fotografie, lo vedete qui con Maradona e anche nella foto della squadra del Napoli cerchiati di giallo. E adesso la questione della pandemia nella nostra regione. Niente sconti alle marche, titolo del Corriere, si resta un'altra settimana chiusi in zona arancione. Telefonata Speranza Acquaroli, nonostante scenda l'RT, gli ospedali sono pieni, il governo sceglie la prudenza, Acquaroli perplesso, teme per le attività bloccate. Dunque, ieri c'è stata questa telefonata, ieri mattina, e quindi la regione per un'altra settimana resterà in zona arancione. Le uniche novità potrebbero riguardare alcune regioni in zona rossa che potrebbero passare in zona arancione. Conte dice, ha detto, mi aspetto un RT vicino a uno. Intanto c'è attesa per il nuovo DPCM che andrà in vigore dal 4 di dicembre. Le regioni confidano in un allentamento generale delle misure per dare tregua, come abbiamo visto, all'economia. I governatori nella conferenza Stato-Regioni, che c'è stata ieri, hanno chiesto al Presidente Conte di ripristinare poi le elezioni scolastiche in presenza dal prossimo 7 gennaio. Sul fronte, invece, per quanto riguarda le piste da sci, che sembra un problema nazionale, è un problema, sì, anche questo, chiaramente, perché ci sono tante persone che ci lavorano intorno. Abbiamo visto 15.000 maestre di sci in Italia. Intanto Italia, Germania e Francia lavorano ad un patto per chiudere piste e impianti durante le feste, ma l'Austria si è detta contraria e la Svizzera in ogni caso ne sarà esclusa. Quindi tutti in Svizzera o in Austria. RT ancora giù, ma la zona gialla resta lontana. È un flop la gara per 400.000 test molecolari. Dal Carlino di Pesero, l'indice va sotto 1, ma rimane all'alta la pressione sulle terapie intensive. Serve una discesa cospicua per sperare. E poi c'è il nodo dei tamponi. Intanto è stato riattivato il numero verde regionale per avere informazioni relative al Covid-19. dalle 14 di oggi. Il numero è questo qua. Ve lo faccio vedere. 800-936-77. A questo numero sarà possibile avere assistenza per tutti i problemi sanitari e i quesiti che riguardano la pandemia. Di nuovo sul Carlino. Conte accelera. Le regioni cambiano colore. Boccia dice Gesù Bambino nascerà due ore prima. Il premio era sorpresa. Dice mi aspetto un indice RT all'1. Braccio di ferro sulla zona rossa per la Lombardia. Natale resta il coprifuoco dunque alle 22. Niente dunque messa della vigilia di Natale a mezzanotte. L'intenzione poi tra l'altro del Governo è quella di vietare lo spostamento anche tra quelle regioni che entrano nella fascia gialla di rischio. I governatori sono contrari nel timore di un nuovo durissimo colpo per l'economia e il turismo. Pertanto non si escludono comunque delle deroghe. Poi sui parenti stretti, ok agli spostamenti, c'è un'eccezione che potrebbe riguardare il ricongiungimento familiare. Oltre al ritorno presso l'abitazione di residenza potrebbe essere consentita nel caso di anziani soli la possibilità di muoversi da una regione all'altra. Poi negozi e coprifuoco. I negozi potrebbero ottenere il permesso di chiudere alle 22 e i centri commerciali saranno aperti nel fine settimana e nei giorni festivi. In questo caso il coprifuoco potrebbe slittare alle 23. Nei giorni di Natale e Capodanno potrebbe esserci un ulteriore allungamento oltre le 24. Ma insomma sono tutte cose un po' campatinari. A feste vietate invece no alle feste nei locali pubblici e nei luoghi privati. Per le case private si sta pensando di inserire nel DPCM la raccomandazione di limitare gli ospiti e i commensali a tavola. Ovviamente ripeto sono raccomandazioni. Il governo potrebbe suggerire di non riunirsi in più di 6 oppure 8 persone. Il monitoraggio settimanale avrà parametri diversi come hanno chiesto anche i governatori. Soltanto quando l'RT sarà ampiamente sotto l'1 e per diverse settimane si valuterà l'apertura serale di bar e ristoranti, paleste e centri estetici. La vigilia di Capodanno, orari light, Natale con i tuoi, pochi però, megastore, entrate contingentate. Anche il Corriere Adriatico parla delle aperture nei confronti dei ristoranti. Il pranzo ok, massimo 4 posti al tavolo. La cena invece in bilico. Per quanto riguarda i test sierologici a 19 euro, le farmacie invece dicono sì. Protocollo messo a punto tra Regione e Federfarma. Meno ricoveri. Ora gli ospedali respirano. Il commissario Arcuri dice che la curva dei contagi si va raffreddando, se non congelando. Si riduce la pressione sui reparti. I guariti superano gli ammalati. Il lieve calo anche per le terapie intensive. I numeri confortano le scelte fatte. Ma ovviamente bisogna continuare su questa strada. Altrimenti basta uno a rimettere in campo tutto il pandemonio o la pandemia. Frenano contagi e test positivi. Non ancora ricoveri e decessi. Meno di 3.000 casi accertati. Nell'ultima settimana parliamo delle marche. La quota di tamponi infetti scende sotto il 25%. I pazienti Covid salgono a 676. Sono più 4. Nonostante i 42 dimessi. Vedete come ci sono anche numeri piuttosto alti a cui non eravamo invece abituati. Nella prima ondata i numeri dei dimessi. Terapie intensive a meno 4. Ieri invece 9 vittime. Sui vaccini si comincia con Pfizer a fine gennaio. Dice ancora Arcuri. Frenate invece per quello di Oxford. Servono altri studi. AstraZeneca deve fare analisi supplementari. Ci sono stati errori nel dosaggio. Intanto il commissario va avanti. Chieste 150 milioni di siringhe. Al via una campagna per la profilassi. Le linee in Parlamento la prossima settimana. Per quanto riguarda invece, tanto per vedere cosa fanno i nostri vicini tedeschi. La Merkel dice che le dosi arriveranno prima di Natale. Berlino prepara i centri speciali. Vaccino anti-Covid. Qui siamo sulla pagina di Fano invece. Carlino questa mattina ha chiesto a un po' di persone più o meno note se faranno o meno il vaccino. Le risposte le troverete sul giornale di questa mattina. Vedete le fotografie delle persone intervistate. Mariana Magrini, consigliera comunale della Lega, che ha detto con qualche dato in più in mano su questo vaccino in effetti sarebbe tutto più facile. In ogni caso se ci fossero le dosi per tutti mi vaccinerei anche io. Marta Ruggeri dei 5 Stelle dice che sono sempre stata a favore dei vaccini. La Marcolini, presidente di Confcommercio Fano, dice che mi vaccinerò sicuramente. Bella Gamma, che fa tra l'altro anche il farmacista, farò il vaccino proteico, quello prodotto con la metodologia classica, efficace e di facile conservazione. Speriamo che sia distribuito però meglio del vaccino anti-influenzale perché attualmente è introvabile. Mentre Stefano Guzzi dice certamente lo farò subito, però credo che la priorità debba essere data a chi è più a rischio. Mentre l'azzolina boccia, anzi è stata bocciata e quindi è arrivato un sonoro no al ritorno tra i banchi degli studenti. L'azzolina, l'abbiamo detto ieri, avrebbe fatto tornare gli studenti il 9 di dicembre. I governatori invece dicono no, non se ne parla nemmeno, anzi se ne riparla dopo l'epifania. Regioni e comuni frenano dunque il ministro. Dicembre è troppo presto, non ci sono le condizioni e tutti scaricano la responsabilità sui trasporti, lo abbiamo visto. Allora, sull'ospedale di Fano, abbiamo detto ieri, abbiamo fatto ascoltare anche l'intervista al primario di medicina Gabriele Frausini, tra l'altro che è disponibile sul nostro sito internet occhianotizia.it. L'intervista integrale dura 7 minuti. Allestita la medicina 2, una bolla per gli infettati, dopo i casi in cardiologia e gastroenterologi, nell'ospedale Santa Croce di Fano, che è un no Covid, altri 17 contagiati. Il primario dice il Santa Croce è pulito, Berselli, che è direttore sanitario, abbiamo fatto tutto il possibile. A San Costanzo invece ci sono 100 bambini in quarantena e dunque è stato disposto una quarantena di 14 giorni per alcune classi della scuola primaria del paese. Focolaio a medicina, blindato il reparto Frausini, prese tutte le misure di sicurezza, salgono 17 carisi rilevati al Santa Croce di Fano, pazienti trasferiti al San Salvatore, ricostruita e interrotta la catena dei contatti. Mentre sulla cronaca, e qui abbiamo chiuso più o meno la pagina di aggiornamento sulla pandemia, la cronaca, muratore fatturave, vinceva pure all'otto, intascandosi il sussidio però statale, titolare di partita IVA per due anni, ha beneficiato del reddito di cittadinanza, scoperto e denunciato dalle fiamme gialle. Parliamo di un uomo che vive a Pesaro. Invece Varani, questa è la notizia che è trapelata sui giornali, sul Carlino di oggi, Luca Varani radiato dall'ordine degli avvocati. La decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna risale a maggio del 2019, in vigore da ottobre dell'anno scorso, ma la notizia è trapelata soltanto ora. Esercitava Rimini, violato l'articolo 5 del codice deontologico, compromessa anche l'immagine forense. Varani, 43 anni, mentre nella fotografia vedete Cristina Capotondi in una scena del film Io ci sono, sull'aggressione ai danni di Lucia Annibali. Sotto vinceva online, ma prendeva il reddito di cittadinanza. Un altro furbetto pescato dalla Guardia di Finanza e denunciato alla Procura, mentre sull'altra pagina, di gestore ok, ma ora è il piano dei rifiuti. Aguzzi non si lascia tutto in mano ai privati, la programmazione sia pubblica, intanto Ricci porta la questione in Consiglio. Betlemme a Talacchio, niente da fare, quest'anno non ci sarà. Il tradizionale Betlemme a Talacchio, l'altro ieri a dare l'annuncio ufficiale è stato appunto il Don Ugo. Mentre si è spento a Monbaroccio Vittorio Marsili. Per tanti anni è stato anche appassionato corrispondente del resto del Carlino. Aveva 91 anni, sposato, tre figli, tre nipoti e una pronipote. È stato per tantissimi anni, come abbiamo detto, il corrispondente da Monbaroccio del resto del Carlino. Lui come lavoro faceva il direttore e era direttore dell'ufficio postale e quindi gli permetteva chiaramente di conoscere ogni persona e ogni problema del paese. I funerali di Vittorio Marsili si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa di Monbaroccio. Le più sentite condoglianze ovviamente alla famiglia da parte del giornale. In seguimento nella notte è arrestato il ladro, sorpreso dalla polizia mentre stava rubando in un quartiere di Pesaro a Pantano. Fulle velocità, fuga a folle velocità, ma viene bloccato dalle pattuglie della polizia in via Lanza. L'uomo ha tentato di fuggire in un giardino nella sua caduta, però si è ferito alla spalla. Scaraventa a terra, il controllore poi scappa, fermato un diciassettenne senza biglietto e dunque si è fatto largo spingendo il controllore. Viaggiava su mezzo Adriabus senza il biglietto, il controllore è caduto, è finito all'ospedale. È successo nel pomeriggio di venerdì 20 novembre. Il ragazzino adesso è finito ovviamente nei guai. Urbino, il centro si fa bello grazie all'UNESCO. 100 mila euro per il giro dei Torricini. L'assessore Guidi plaude all'ennesimo fondo ottenuto e cofinanziato dal Comune per il restyling del cuore cittadino. La scaletta mi sta a cuore da quando mi hanno eletto sindaco. Il PD all'assessore basta critiche, faccia qualcosa. Trasferimenti no, non sono volontari. Caso Civitanova, personale ridotto in ospedale a Urbino. Idem, Pressano Lafoschi e l'assessore regionale della sanità, Salta Martini. A Fano invece il garage come luogo di spaccio. Mamma Coraggio segnala il figlio. Aveva notato uno strano andirivieni. Sono stati denunciati il ragazzo e anche un amico. C'è stato un arresto, guidava anche senza patente. Qui siamo ovviamente a Fano. Oggi in Consiglio Comunale invece il bilancio consolidato di Aset. Andiamo dalle parti della stazione ferroviaria di Fano, dove si stanno facendo i lavori per costruire il nuovo ipermercato, dove una volta c'era l'ex mulino. L'apertura dovrebbe essere prima di Natale, stando a quello che scrive il giornale questa mattina. Covid permettendo addirittura d'arrivo il tormentato iter progettuale ed esecutivo. Acquista vicino e favorisce il nostro piccolo commercio, campagna di sensibilizzazione delle associazioni fanesi e della vallata del Metauro. Ora, qui c'è un'altra notizia sul Corriere Adriatico di Fano di oggi, sulla quale ci si potrebbe un po' dividere. Ovvero, intitolare a Dario Fò una piazza. Rinnovò genialmente il Carnevale di Fano. Va in Consiglio oggi la mozione dei Cinque Stelle, in alternativa una via e un settore del Teatro della Fortuna. Dario Fò merita che l'amministrazione fanese lo ricordi come si deve, intitolandogli una piazza oppure una via e un settore del Teatro. Questa è la proposta in termini tecnici di una mozione che il gruppo dei Cinque Stelle sottopone al voto del Consiglio Comunale e che rende onore a Fò per il suo personale impegno come direttore artistico del Carnevale edizione 2003. Edizione che potrebbe piacere come potrebbe non piacere. qualcuno chiaramente criticherà il modo in cui è stato gestito il Carnevale di Fano sotto la direzione artistica di Dario Fò. Altri invece diranno che è stato un successone, è stato un capolavoro. È giusto o no dedicare una piazza, una via ad Dario Fò? L'altra pagina del Corriere invece è quella di Pesaro. L'abbiamo selezionata perché si parla del Piano del Comune per salvare il Natale e anche il commercio. Niente cerimonia per l'accensione delle luminarie in Piazza del Popolo. Pesaro nel cuore cambia format, ma non mancheranno le sorprese. Mentre sulla pagina della Valle del Metauro volantini negazionisti a domicilio tra gli anziani sconcerto e timori. Il sindaco c'è in giro un virus che uccide e riempie gli ospedali. Rispettare le regole e basta. Questi sono i due volantini che vedete. In sostanza fanno vedere e soprattutto esprimono il dissenso verso le mascherine, per esempio, o verso le mascherine. Verso le mascherine sì, ma anche le mascherine a scuola. O addirittura il distanziamento dei banchi. Vedete qui sotto il distanziamento dei banchi. Questa X che fa vedere come non sia giusto, secondo queste persone che hanno messo questi volantini nelle cassette delle poste, non sia giusto tenere i bambini a distanza. Era più bello quando invece, certo, non gli si può dire che non è vero, ma in questo momento non è possibile. Vedete quando c'era il famoso compagno di banco. Nei negozi aperti solo il fine settimana contro la crisi. I commercianti a Senigallia in ginocchio per il Covid hanno deciso di alzare le serrande da giovedì a domenica. Gli altri giorni, dicono, i commercianti non conviene. Parlano i titolari. Centro storico praticamente deserto a Senigallia. Ci sono giorni in cui chiudiamo a zero, senza aver incassato nemmeno un centesimo. RSA, operatore positivo all'Opera Pia Ferretti. Gli ospiti sono stati subito isolati. Visite dei familiari sospese. Proseguiranno videochiamate e momenti di animazione. Sempre da Senigallia, ma dal Corriere, controlli nei laboratori tessili. Scoperti 11 lavoratori in nero. Blitz dei Carabinieri è spettorato in due aziende di Ostra e Montemarciano. Elevate multe per oltre 40 mila euro. Questa è la fotografia che fa riferimento appunto ai controlli eseguiti in questo laboratorio. E poi ancora lo sport per chiudere la nostra rassegna stampa. A Pesaro, ambiente ideale per sognare. Lazzari racconta la sua espulsione e pensa anche al prossimo futuro. Il suo è anche quello della Vis. Tante partite tra i prof, tra i professionalisti, ma non ho mai vinto un campionato. Sarebbe bello, dice, farlo qui vincere con la Vis. Contro il Carpi ho preso il rosso, il cartellino rosso, perché ho difeso un raccattapalle. Il Fano deve dare tutto per prendere i tre punti. Carpani mette nel mirino la Virtus Verona. La classifica ha bisogno di una vittoria. Dopo il lungo stop per il Covid non vediamo l'ora di scendere in campo. Allora, prima di salutarci, andiamo a rivedere velocemente le prime pagine dei due quotidiani. Allora, il Carlino di Pesaro, zona gialla, la corsa è tutta in salita, l'indice RT Marchigiano scende sotto l'uno, ma resta il problema dei tamponi e dell'occupazione dei posti letto. A centro pagina la foto di Diego Armando Maradona. Il racconto del fanese, terzo portiere che all'epoca giocava con lui, Marinelli, era appunto il terzo portiere del Napoli. Io gli parai un rigore e dentro nel giornale c'è il racconto di come andarono poi le cose. Ginnastica e pugilato a Campanare di Pesaro, completati i lavori all'interno del padiglione F, poi un trenino per le festività di Natale, sempre a Pesaro. E la cronaca, soldi e vincite, ma prendeva anche il reddito di cittadinanza, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza dopo due anni. Non ha il biglietto, dà una spinta al controllore, un 17enne finisce nei guai. Poi il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico, invece, eccolo qua, titolo, Arancioni, almeno per altri sette giorni, Acquaroli ha telefonato al Ministro Speranza, nonostante l'RT scenda, gli ospedali però restano pieni. Ieri altri nuovi decessi nelle Marche, ho trovato l'accordo per i test sierologici rapidi nelle farmacie, mentre al Santa Croce è stata creata una cosiddetta bolla per i positivi, è stato allestito il reparto Medicina 2, che serve per tenere a bada, insomma, questi positivi che sono comunque entrati, pur essendo il Santa Croce un ospedale, sono riusciti a entrare, ma chiaramente, anche come abbiamo detto anche ieri, uno entra negativo, poi se ha il virus in incubazione, è il tempo di svilupparsi, e quindi poi il virus si manifesta quando già sei dentro, ecco perché poi dopo è facile perdere di vista un po' la situazione. Però c'è questa bolla che adesso ha messo tutti in sicurezza. Le altre notizie sempre dal Corriere Adriatico, il muratore vinceva il lotto e prendeva anche il sussidio, poi lo spaccio di droga a Fano, una mamma a coraggio, segnala il figlio. Allora è tutto per quanto riguarda l'informazione, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia, due informazioni per quanto riguarda il palinsesto di Fano TV, allora la prima lunedì prossimo alle 21 dopo il telegiornale c'è Primo Cittadino con il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri e poi lunedì per tutti i bambini cominciate a dirlo ai vostri nipotini al telefono, chiamateli e ditegli che lunedì su Fano TV canale 17 alle 18, a che ora? 18, 18.30 mi pare Riccardo? 18.30 circa ci sarà la prima puntata di A Casa di Babbo Natale, Babbo Natale ci collegheremo con la Casa di Babbo Natale al Polo Nord e Babbo Natale come tutti gli anni su Fano TV giocherà con tutti i bambini che vorranno chiamarlo e vorranno parlare con lui in diretta, questo lo faremo fino alla vigilia più o meno di Natale. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie a tutti, grazie a tutti.